Il diavolo è molto porco! Sono entrata in convento quando avevo undici anni e sono rimasta otto anni in convento Io penso che da un lato il mio lavoro da un certo senso mi dà la mia fede e l'amore per Dio e nonostante il mio lavoro credo fermamente in Dio e la mia fede è sempre più intatta, sempre più forte Sì, ho lasciato il convento perché mi ero innamorata di un sacerdote E lui corrispondeva a mio amore Onesta, onesta! Il genere c'è un filone che si chiama... Elena! Non mi interessa! Non lo voglio sapere! Non lo voglio sapere! Però è un altro filone! Malena! Non lo voglio sapere! Malena! Non lo voglio sapere! Non lo voglio sapere! Ma lo voglio sapere! Ma lo voglio sapere! Grazie a tutti